Tenax International nasce in Italia al centro della cosiddetta Motor Valley ed oggi è la prima società a livello mondiale nella costruzione, distribuzione ed assistenza di macchine per la pulizia stradale 100% elettriche. Diverse amministrazioni comunali si sono affidate alle nostre soluzioni, le più importanti Parigi, Bruxelles, Cracovia, Barcellona. Nel 2003 abbiamo capitalizzato la nostra trentennale esperienza introducendo sul mercato la prima spazzatrice elettrica al mondo, l'Electra 1.0. In un mercato quasi totalmente diesel questa intuizione verso sviluppo di soluzioni elettriche richiedeva un partner affidabile per l'alimentazione della macchina e per questo ci siamo affidati ad Enersys. Dopo un'attenta analisi, verifica e elaborazione del progetto insieme abbiamo definito una soluzione con una batteria da 48 volt 620 am per ora al fine di garantire la copertura di turni da otto ore. In passato, oltre l'autonomia, le batterie pagavano dazio sull'affidabilità. Solo assicurando l'affidabilità delle macchine assieme a quella delle batterie si poteva competere con soluzioni diesel. Per soddisfare questo requisito fondamentale abbiamo spostato il focus sul caricabatterie fornendo un Li-FiQ ad alta frequenza ed il data logger per il monitoraggio dei dati e per avere sotto controllo lo status di ogni batteria. Il data logger è in grado di comunicare con il caricabatterie Li-FiQ e di ottimizzare il profilo di carica allungando la vita della batteria. Per noi era molto importante arrivare sul mercato con un prodotto affidabile ma anche dall'elevata sostenibilità economica. Anche grazie alle batterie Enersys riusciamo infatti ad abbattere i costi di gestione del 90%. Una batteria non affidabile o non adatta all'applicazione si traduce in un ciclo di vita più corto e in un ROI inferiore quindi in fase di perfezionamento dell'offerta economica. Abbiamo dato la possibilità a Tenax di modulare la propria offerta con un pacchetto di gestione energia per ogni specifica applicazione. Waterless che ha intervalli di rabocco più lunghi come soluzione standard. Ironclad per i noleggi a lungo termine e le applicazioni più pesanti e Nexis per applicazioni con particolari esigenze di ricarica e turni estesi. Consolidate le caratteristiche tecniche e le offerte commerciali ci serviva quindi un partner che potesse garantire un'assistenza praticamente in tutto il mondo e con un portafoglio di soluzioni adattabili ai vari contesti geografici. Abbiamo quindi affiancato Tenax nella proposta commerciale non solo come fornitori ma come consulenti. Inoltre grazie alla nostra presenza capillare in più di 100 paesi nel mondo abbiamo garantito una copertura service davvero efficiente. Questa collaborazione a livello internazionale è stata molto importante per noi in quanto la nostra azienda esporta per l'80%. Grazie agli strumenti di monitoraggio che ci ha fornito Enersys abbiamo potuto creare una politica di vendita basata su consapevolezza tecnica e dati verificabili.